L'associazione Mamme Insieme di Abate Marco presentano la tredicesima festa della melanzana e degli antichi sapori. L'1, il 2 e il 3 agosto ad Abate Marco in provincia di Salerno. Tre serate all'insegna della cucina tipica abatemarchese accompagnata da spettacoli e musica dal vivo. L'1, il 2 e il 3 agosto fatti conquistare dalla festa della melanzana ad Abate Marco in provincia di Salerno. Menù 10 euro. L'1, il 3 agosto fatti conquistare dalla festa della melanzana ad Abate Marco in provincia.